Un'alta, densa colonna di fumo è quello che resta dell'aereo militare Ilyushin di fabbricazione russa utilizzato dall'esercito algerino con destinazione Beshar, città al confine con il Marocco. L'aereo è precipitato mercoledì mattina alle 8 vicino all'autostrada di Blida a Bufaric, a 30 chilometri da Algeri, nel nord dell'Algeria. Secondo la protezione civile algerina, le vittime ufficialmente accertate dello schianto sarebbero 105. Non ci sono sopravvissuti, ha riferito un rappresentante dell'esercito. In base ad una prima ricostruzione, l'aereo sarebbe precipitato pochi minuti dopo il decollo. Ancora ignote le cause del disastro. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito ha ordinato l'immediata apertura di un'inchiesta.